L'Almanacco della Fede Di Padre Livio Oggi cari amici E ci vorrei aprire con il pensiero spirituale prendendolo dal messaggio della Regina della Pace che, come avete sentito, ci esorta alla preghiera col cuore. Merita un approfondimento la preghiera col cuore anche perché c'è una sola preghiera per la verità che è quella vera, quella che arriva fino a Dio e quella che a noi dà gioia ed è la preghiera col cuore. Una preghiera che fosse fatta solo con le labbra non avrebbe un grande valore davanti a Dio. Quindi vediamo cosa vuol dire preghiera col cuore. Innanzitutto perché col cuore? Perché nella Sacra Scrittura, sia nell'Antico come nel Nuovo Testamento, il cuore è ritenuto molto più che un organo fisico, materiale. che in questo senso è oggetto dalla scienza, ma è qualcosa di più profondo, tant'è vero che noi lo sentiamo, lo avvertiamo, che sentiamo che il cuore ha una sua intelligenza. Cioè si pensa col cuore, si sente col cuore, si ama col cuore, si odia col cuore, cioè il cuore è effettivamente il centro spirituale, morale e anche sentimentale, possiamo dire, affettivo della nostra vita ed è anche e soprattutto nella luce biblica il luogo dove Dio parla, Dio parla al cuore, dove l'uomo risponde e Dio bussa alla porta del cuore, l'uomo apre e risponde e quindi è anche il luogo dell'incontro con Dio o della dimora divina. Tuttavia, cari amici, nella secca scrittura, diciamo anche nell'Antico Testamento, poi sempre più nel Nuovo Testamento, poi nella storia, diciamo, della spiritualità cristiana, la medesima centralità che è stata fatta dal cuore la si dà all'anima, perché effettivamente il cuore di per sé è quello che è, cioè quello che noi vediamo facendo un'icografia su del profilo materiale, ma in realtà è qualcosa di molto più grande. E perché il cuore è qualcosa di molto più grande? Noi lo avvertiamo anche sperimentalmente. Un grande dolore ci può provocare un infarto, una lama che ti trafigge, come ha detto Simeone alla Madonna. Per quale motivo? È perché, cari amici, il cuore è, al di là del fatto di essere quel muscolo che pompa il sangue, è il luogo dove, possiamo ben dire, abita l'anima umana, che anima tutto il corpo, ma ha il suo centro, ha il suo centro focale nel cuore stesso, e quindi poi ovviamente è nella scrittura, la sacra scrittura è nella storia della spiritualità, quello che si dice del cuore lo ci c'è anche dell'anima, dell'anima umana, che, come il cuore ha una sua profondità, per cui uno pensa col cuore, ama col cuore, odia col cuore, quindi è certo la vita intellettuale e morale, così si può dire dell'anima, che, come dicono i grandi mistici, ha una punta, c'è la punta dell'anima. Alcuni parlano della punta dell'anima, altri del fondo dell'anima, dove Dio è presente, è presente con la sua legge morale e con la sua voce che chiama, che approva se facciamo il bene, che rimprovera se facciamo il male, e quindi, in un certo senso, è anche quel luogo dove io ho impresso i suoi comandamenti, nell'anima umana, e quella realtà dell'anima umana che si chiama coscienza. La Madonna stessa nei suoi messaggi, parlando del cuore, parla anche dell'anima, dicendo che il Padre si è riservato nell'anima una parte tutta per sé, tutta per sé, cioè il Padre, cioè Dio, possiamo dire, Santissima Trinità, si è riservato nell'anima una parte tutta per sé, per dialogare con noi, per venire ad abitare in mezzo a noi, per farne la sua dimora. Ovviamente, se noi viviamo in consonanza con la Divina Volontà, perché potremmo anche essere poi l'anima, invece, come dice la Madonna in un messaggio, Satana che scardena i cuori e poi entra con l'odio, può entrare con l'odio e può entrare a inquinare il cuore e può inquinare l'anima. Quindi si può usare ambedue i termini, ambedue molto ricchi nella tradizione cristiana. E in questo contesto che vi ho spiegato collochiamo la prega del cuore, che poi la Madonna l'ha insegnata ai veggenti di Međugorje la prega del cuore, se n'è fatta protagonista a Visca quando parla alla gente, dicendo che la Madonna è insegnata a loro a recitare il Padre Nostro, le Marie Glorie al Padre, molto lentamente, magari dedicare un giorno intero solo a recitare il Padre Nostro, cercando di gustare col cuore ogni parola. Sappiamo che la tradizione cristiana in questo senso è ricchissima. Per esempio, Santa Teresa d'Avila, quando incominciava il Padre Nostro e pronunciava la parola Padre, si fermava lì e cominciava a piangere. Ora, non dico che noi dobbiamo arrivare a quel livello, se no non parlieremo più voi, ma dobbiamo però gustare le parole che pronunciamo. Quindi la parola Padre, che deve suscitare in noi sentimenti figiali, non è che risuscita, diciamo così immediatamente, noi riflettendo sopra la paternità di Dio, man mano Dio ce la rivele interiormente e così ogni espressione del Padre Nostro, ogni espressione dell'Ave Maria, ogni espressione della gloria al Padre, che dedicare dei giorni interi a questo, se si vuole imparare a pregare col cuore, cioè ogni giorno recitare lentamente il Padre Nostro finché non lo si recita col cuore, poi per più di un giorno, più giorni, dedicare, dedicare a recitare l'Ave Maria finché non la si recita col cuore, e così anche per i gloria al Padre, per cui, dice la Madonna, quando avete terminato questo esercizio di spiritualità, e siete in grado di visitare il Rosario col cuore. Ed effettivamente poi il Rosario col cuore, incastonato nei bellissimi misteri di ogni rosario, che in noi suscitano sentimenti più elevati, l'incontro con Dio nella preghiera anche orale, diventa un incontro, come dire, ricco sotto il profilo spirituale, affettivo e morale, ed è fonte di gioia, è anche fonte di, come dire, di elevazione, di buoni propositi, di entusiasmi, perché così è, diciamo, ogni autentico incontro con Dio. Però la Madonna ha spesso, come possiamo dire, incastonato questo invito a pregare col cuore nell'esultazione, a percorrere la via della santità, ed ha fatto anche questo messaggio, dove ci ha richiamato ai punti fondamentali che ha essenzionato nei primi anni, fra cui pregare col cuore e intraprendere, scegliere la via della santità. In questo senso è molto interessante vedere come la preghiera del cuore ha le sue tappe, che sono tre tappe, e che sono esattamente le tappe del cammino di santità. Per cui un cammino nella preghiera del cuore diventa per se stesso un cammino sulla via della santità. La prima tappa è quella di aprire il cuore, che nel cammino di santità sarebbe la conversione. Cioè, aprire il cuore vuol dire se Dio bussa alla porta del tuo cuore e ti chiama, tu apri. Lo fai entrare nella tua vita, lui porta la tua luce, porta la sua prova di incoraggiamento, la sua prova di perdono, ti chiama a pentimento dei peccati, ti chiama alla vita nuova, finché non si arriva alla decisione della conversione. Questo è il primo cammino, la prima tappa fondamentale, il cammino spirituale, è quella che si passa da uno stato di peccato mortale in una vita di grazia, che ovviamente passa necessariamente attraverso il sacramento della confessione. E allora, la tappa della conversione nel cammino di santità corrisponde all'aprire il cuore nel cammino della preghiera del cuore. La seconda tappa, la seconda tappa della preghiera del cuore è quella appunto, quella che si va al di là, sempre più delle, come dire, delle parole e si va al di là delle parole stesse che diciamo, cioè le parole che diciamo, che pronunciamo nella preghiera, che sono necessarie, sono come un trampolino di lancio verso l'alto per entrare sempre più in intima unione con Dio e proprio perché ci elevano e ci, come dire, ci spogliano della mondanità, ci ripuliscono delle polveri che si riposano su di noi, come dire, ci lavano, ci purificano. Quindi, noi lo vediamo, cari amici, che man mano che pratichiamo la preghiera, la sentiamo interiormente, cresciamo nella, cresciamo nell'unione con Dio, noi vediamo pian piano che l'amare Dio sopra ogni cosa diventa una realtà sentita, cioè veramente sperimentiamo questo amore di sopra di ogni cosa che diventa poi un trampolino di lancio per l'ultima tappa del cammino spirituale con l'unione con Dio. Così, nel cammino di santità la seconda tappa è quella della purificazione, cioè quella tappa in cui noi ci, come dire, ci purifichiamo di tutte le forme di mondanità, di difetti, le scorie del male che sono in noi, le radici del male che non sono ancora estirpate, quelle zavore che ci impediscono di allevarci in volo, è la tappa della purificazione che è fondamentale e anche dolorosa nel cammino di santità e lo è anche nella pariera del cuore con la quale però pian piano si arriva alla terza tappa che è quella della contemplazione, cioè la tappa della contemplazione ovviamente non significa essere rapiti in estasi, però significa cari amici come ha detto la Madonna arrivare a quella come dire arrivare a quella situazione esistenziale in cui il mio cuore ha detto la Madonna il cuore di Gesù e il vostro cuore siano una sola cosa siano solo cuore di amore e di pace questo è il culmine della preghiera del cuore e quel livello diciamo di preghiera di cui parlava il santo croato d'as quando stava davanti al Santissimo che diceva non diceva neanche una parola era superata al momento della parola diceva lui guarda me e io guardo lui è come quando due persone che si amano si guardano negli occhi per fare un esempio forse che la gente comprende meglio e così nel cammino di Santità la tappa finale la terza tappa è quella dell'unione con Dio l'intima unione con Dio essere con Dio un corso è un'anima sola essere con Dio una sola volontà la nostra volontà è totalmente assimilata alla sua volontà questa è diciamo l'apice del cammino di Santità e nella preghiera del cuore è il momento della contemplazione ora queste tappe cari amici sono condotte con la nostra buona volontà sicuramente ma soprattutto con la grazia dello Spirito Santo lo Spirito Santo che ci illumina ci fortifica e ci purifica che è la gente della nostra santità cari amici e quindi come vedete la Madonna come maestra di preghiera ha fatto questo piccolo capolavoro di tracciare un itinerario della preghiera del cuore che è il medesimo itinerario del cammino di santità così come ce l'ha sempre presentato la tradizione ascitica e mistica cristiana questa dunque era la riflessione che volevo fare e l'impegno che la Madonna ci chiede come avete sentito poi è un tema che voglio approfondire emersi dei messaggi della Madonna ormai da più di un anno questa parte è sempre più una preoccupazione della Madonna per la situazione spirituale nostra ma anche di Međugorje insomma perché è chiaro questa espressione che c'è nel messaggio figlioli siete ancora lontani lui dice prima di Međugorje poi di noi la mettono la Madonna stessa che messaggi prima gli dà la parrocchia di Međugorje poi gli dà gli altri quindi mi pare che si ripetono un po' spesso ormai nell'ultimo anno queste espressioni che sono che poi noi poi le dimentichiamo poi la Madonna cerca di addolcirle però è anche giusto non nasconderle prenderle sul serio perché la mia impressione è che noi arriveremo al tempo dei segreti che avremo quasi perso la fede e non crederemo più alle apparizioni e si ripete un po' temo che si ripeta un po' quello che Gesù ha detto di se stesso per quanto riguarda la seconda venuta quella finale quando ha detto quando verrai figlio dell'uomo troverai ancora la fede su questa terra per cui cari amici vigiliamo e preghiamo teniamo accesa la preghiera la veglia vegliate e pregate cari amici perché perché l'ora delle tenebre non ci abbia a cogliere impreparati l'almanacco della fede di padre Livio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.